Stadio Giuseppe Omiazzi in San Siro, Inter Juve, intervissimo In attraversione di Neffi al secondo palo, Del Piero, Giulio Sensa Si è liberato pur disto sul secondo palo, prova ad arrivare Colpo di testa di Chimane se attraversa Bacchivu, Buffon, in calcio d'angolo Tresegui, non arriva sul pallone, Neffi al piede, Giulio Sensa Cerca la profondità, la palla passa, Mauro Camoganesi, come è l'andata? 1-0 Palla in verticale, il tocco di Del Piero per Tresegui, puntissimo Tadio! Tresegui, 1-0 Maicon ancora passa, Maicon, tutto bene? E c'è quanto il 2-1 di Manish! 38 minuti sul cronometro! Ancora Manish, la palla passa in qualche modo E poi palo! Lavoroso palo! Ancora di Manish Ce ne sono di sé, non solo di questa, altre partite Ora non è il momento di pensare a questo, è il momento di tirare per ogni partita il massimo Stasera abbiamo fatto una grande gara sotto ogni profilo, dovevamo chiudere la prima Siamo felici, non pensiamo a quello che poteva essere, se no non finisce più Oggi hai raggiunto Gaetano Scirene, classifica di tutti i tempi per le presenze con la maglia della Juventus 552, magari avresti voluto festeggiare con un gol, visto l'occasione Sì, sì, mi sono mangiato una clamorosa e vabbè, meno male non è servito L'ultima cosa, una curiosità, con chi hai scambiato la maglia? Stanco, perché è tre anni che mi rompe le scatole, perché aveva bisogno